pubblica sicurezza buongiorno e buongiorno vorrei denunciare che nell'appartamento del vicino di casa stesso pianerottolo sono entrate più di sei persone le ho viste personalmente dallo spioncino gentile signora potevano essere riconducibili a parenti stretti o congiunti no no agente sono certa che sono persone che non ho mai visto qui può fornirmi l'indirizzo cortesemente certo via del piloro 42 barra a grazie resti in linea per ulteriori informazioni gentile utente grazie alla sua segnalazione sconfiggeremo questo virus e per questo motivo vogliamo farle un regalo le verrà inviato un coupon per il ritiro del premio di una bambolina senza testa presso il negozio giochi lerci più vicino a casa sua la ringraziamo per la collaborazione pubblica sicurezza buongiorno buongiorno vorrei denunciare che nell'appartamento del vicino di casa temo siano entrati dei rapinatori sento gridare aiuto e non so che fare hanno appena sparato e vabbè la metto in contatto con l'ufficio competente siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato vi suggeriamo di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita ci scusiamo per l'attesa tutti gli operatori sono momentaneamente occupati vi suggeriamo di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita ci scusiamo per l'attesa un operatore vi risponderà appena possibile ci scusiamo per l'attesa il tempo di risposta del nostro operatore è stimato in sei ore per chi non lo avesse capito il teatro racconta spesso cose realmente accadute a Grazie a tutti.